ogni prima casa sia in affitto a canone sostenibile e a canone sociale quindi famiglie a basso reddito, giovani coppie e immigrati regolari saranno alcuni dei beneficiari nel frattempo il commissione finanze e bilancio della camera va avanti il dibattito su decreto legge a crisi tra i punti cruciali l'esame oggi la detassazione degli investimenti per le imprese lo scudo fiscale e la regolarizzazione di corti e badalli l'esame del gesto inaugurato